Concentrati, prova a pensare di divertirti e apri la porta! E' il capo! Guarda chi ti abbiamo portato! Grazie al cielo sei qui! Electra Girl! Electra? Electra Girl, cosa si prova a essere prigioniera del guerriero tossico? Scusate, potevate dirlo che mi avevate invitato a un party? Electra Girl, su una sedia elettrica, scusami, lo stuzzichino dov'è? Sei molto tenera Electra Girl, peccato, potevamo essere una bella coppia io e te! Ma mi sembri un po' quadrato, un po' bruttino ecco, non è che volevo deluderti sinceramente ero! Bando alle ciance, Electra Girl puoi immaginare che cosa voglio da te! Ah, potevi dirlo prima, scusami! Ma è una cosa mica così difficile, caro! Lo sanno tutti che la do a tutti e quindi... Ma no! Electra Girl, io sono assessuato! Io voglio i codici di sicurezza della centrale nucleare! Con quei codici in nostre mani noi potremmo dominare il mondo! No, no, non irritare! Usa i tuoi superpoteri di persuasione per fargli cambiare idea! Ah, vacillo! Electra Girl! Tantassica, no! No, no, maledetta! Maledetta, scusa! Cara mia eroina! Mi piace, mi è eccito, continua, vai! Hai due possibilità, o mi dai codici... Sì? ...o immagina tu l'alternativa! L'alternativa! No, no! Dai! Dai! C'è il fiume fisso! No! La morte dolorosa! Non credere che sia così facile! Electra Girl ha sempre un piano di riserva, tesoro! Usa i tuoi superguanti! Ma... Oh mio Dio! Cosa fanno questi superguanti, Electra Girl? È un cazzo! Però forse lo stivale è ancora più nocivo di te! Ci sono i funghi malefici dentro questo stivale! Sono ancora più tossici! Dopo tre ore che ci sono dentro! C'è il guano dentro questi... ...stivali! Signor Tossico, i vigili urbani stanno rimuovendo la Toxic Mobile! Ci sei tu dietro questo sgarbo, Electra Girl? Certo, c'è sì no, scusami di che stavo a parlare! Va bene, noi andiamo, ma torneremo! Elettra! Eh? Cosa possiamo fare adesso? Due chiacchiere! Ma no, per sfuggire da qua! Proviamo a usare le elettrocinture! C'ho pure un calzino marrone! C'è, le elettrocinture! Ma io non è più comodo la supertetta, non so, mi sembra più resistente! Come funziona? Funziona che... ...se riesco... ...ad attivare... ...ad attivare il pulsante... ...ad attivare il pulsante... ...il tempo è scaduto! Sì! Allora, la decisione, o i codici o la morte! Mi fai vacillare, Electra Girl? L'acqua è riera tossica! No, no, ammazziamola, ammazziamola! Perché fazziamola? Allora, che devo fare? Scusami per... ...muoi fare il bis? Eh? Puoi immaginare, Electra Girl, come ti ucciderò? Friggendomi su una sedia elettrica? Non esattamente, adesso Mr. Sfiga azionerà quel congegno e una molecola di male entrerà dentro di voi facendovi soffrire a morte! Sì, che bello! Va bene, è consensiente, attiva! Fra 30 secondi morirete tutti! Sì! Hai qualcosa da dire, eroina, prima di morire? Sono verdose! Francesca e Inaudi! Eh, insomma... Vedendo questi baci che voleva comincia a invidiare gli attori dal cast fisso, devo dire! Basta, no, non sono una ragazza facile, per favore!